Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Fratelli Nerazzurri, amici di Facebook e Instagram, buonasera a tutti ragazzi, un saluto a tutti iscritti del canale, 6 tiri in porta a 3, ma di che cazzo stiamo parlando? 5 tiri in porta a 4 a loro favore, ma un Inter, un Inter che ha vinto, 3 puntate, 3 puntazzi fondamentali, 3 puntazzi che pesano tanto, dopo che avevano giocato tutte, che avevano vinto tutte 1 a 0, però insomma c'è chi vince e che insomma le partite vanno in un certo modo e c'è chi vince invece veramente contro un arbitraggio del cazzo, perché la Roma doveva essere in 10 da, mo' che doveva essere in 10 la Roma con Cristante, e quindi la Marotta League, com'è, com'è, com'era la stronzata della Marotta League, perché poi questo weekend, capito, il culmine è stato questo, ma abbiamo vinto nonostante tutto ciò, 11 contro 11, strepitoso Tikus Turam, è vero, Lautaro fa il gol della vittoria, ma strepitoso Tikus, che partita che alla fine sviene, non ce la fa più, ha fatto di tutto oggi, il Tikus Turam, grande briscola Bastoni, stupendo Denzel Dunfris quando è entrato, Lauti, qualche cosa buona al primo tempo, che poi le occasioni belle le abbiamo avute noi, loro hanno fatto un tiro in porta al primo tempo, un tiro in porta al secondo adesso, alla fine che sono, l'ultimo tiro, che cazzo era, Pizzelli, chi era Pizzelli? E quindi hanno vinto a Roma, hanno vinto a Roma, sì, è l'ensci, 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 quindi su un campo tosto, una partita che era dura ovviamente, in più con la sfiga pure, perché contro tutto e tutti, anche contro la sfiga, che parti con i titolari e dopo dieci minuti fuori c'era Noglu, dopo fuori pure a Cerbie, quindi vedete come si era messa questa partita, quindi anche un De Vrij che è entrato molto bene, non era facile tenere quel sarchiappone lì di Dobbing, come cazzo si chiama, non una bellissima Inter, siamo d'accordo, ma le occasioni belle le abbiamo avute noi, non tantissime occasioni né da una parte né dall'altra, non è stata una bella partita, ma l'importante erano i tre punti, Lautaro comunque va a fanculo, ha fatto un cazzo, però l'ha buttata dentro e quello deve fare un attaccante, ma sontuosa prestazione del Tikus Turan, veramente, sontuosa, e magari un Denzel così lo farei giocare un po' di più, mister, visto che Darmian, poverino, lo vediamo partita dopo partita che non ce la fa, che cazzo aspettiamo di mettere dentro Denzel Dunfes dall'inizio? Sicuramente avremmo creato qualche più pericolo, insomma comunque si gode, si stragode, perché erano lì tutti a gufare, pronti, quelli della Marotta League, quelli del Pugno che va bene non fa niente, il Pugno non è successo niente, i due gol, ne ho parlato oggi, ne ho parlato, ma ne riparliamo, insomma, di due gol annullati, di un rigore non dato mai in Marotta League, invece stasera, rosso, clamoroso, a Cristante non dato, voglio vedere che cazzo diranno, comunque tre puntazzi abbiamo vinto e siamo sempre lì, siamo sempre lì nel gruppetto, nel gruppetto, basta ragazzi, domani vi cucate la live reaction e siamo già a testa allo Young Boys, condividete le video che siete al canale e sempre Forza Intra, attivate la campanella e fate un super passaparola, ciao belli, ciao, se vediamo eh, ciao!